Musica Oggi è un forum importantissimo a fare turismo, si parla del Ghibliere 2025, un momento storico per la città ma non solo. Ecco qual è l'impegno che si porterà avanti da qui fino all'anno prossimo. L'impegno è rivolto agli ospiti che verranno nei nostri hotel chiaramente per cui la massima professionalità possibile perché è un'occasione sempre unica per dimostrare quanto siamo bravi e soprattutto quanto il Made in Italy è importante. Noi in questo caso rappresentiamo l'eccellenza dei professionisti dell'accoglienza e abbiamo bisogno di mantenere questa tradizione per cui la formazione dei nostri ragazzi è importantissima per mandare un messaggio importante per la divulgazione della cultura e delle bellezze della nostra terra. Musica